Il 6 novembre, giorno della firma del concordato in bianco per la Sidigas, si sta avvicinando, ma non è da escludere che l'Avelino Calcio, pure alla luce delle nubi nere che si addensano all'orizzonte dalla vicina procura di Salerno, possa essere venduta prima. La Sidigas, società che in questa fase tiene in ostaggio lo sport irpino, nelle maggiori espressioni di calcio e basket, è al centro di nuove indagini investigative, nuove accuse e nuovi sospetti. Di riflesso, nei guai che hanno travolto il giudice tributario Antonio Mauriello, ci sarebbe anche l'azienda partenopea, che il papà del presidente Biancoverde, secondo i colleghi di otto pagine che hanno lanciato l'anteprima, avrebbe favorito nell'eludere il pagamento di tasse e tributi. Tesi, tutta da dimostrare. Nel frattempo, però, gestire l'Avelino in queste ore, in queste condizioni, non sarà semplice sia da Piazza dei Martiri a Napoli che dalla sede operativa del Partenio Lombardi. Ecco perché si sta nuovamente guardando con attenzione al Tribunale fallimentare di Avellino, dove, sulla PEC dei commissari, nominati dal giudice che segue il caso Sidigas, sono pervenute tre offerte ufficiali. La prima di un milione di euro da parte di un'azienda campana, la seconda di Angelo D'Agostino, che non ha mai ritirato quella di 500.000 euro, elevandola fino ad 800.000 euro e la terza di una cordata del centro-sud che, più di un'offerta in realtà, ha presentato una manifestazione di interesse. Nel frattempo, Mario Dell'Anno, presidente dell'Associazione per la Storia, attraverso il suo profilo Facebook ha minacciato il ritiro del logo dalle maglie del Lavellino, nel caso in cui la società non dovesse essere ceduta entro il 31 dicembre.